Si informa che l'Inps, con messaggio numero 4025 dell'8 novembre 2022, ha comunicato di aver completato gli aggiornamenti della procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla gestione separata. Secondo le novità legislative, in vigore dal 13 agosto 2022, in attuazione dalla direttiva UE del 2019, 1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Vedi il comunicato ENS pubblicato sul sito il giorno 4 novembre. Le domande di congedo possono riguardare anche i periodi di astensione fruiti dal 13 agosto fino all'8 novembre 2022. Il 13 agosto 2022 è la data di entrate in vigore del Decreto Legislativo 105 del 2022. All'8 novembre 2022 è la data della pubblicazione. Per i periodi di congedo dal 13 agosto all'8 novembre, le domande già presentate restano valide senza nuova domanda. Per i congedi successivi, le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Restano da aggiornare le procedure per il congedo parentale degli autonomi, l'indennità anticipata di maternità delle autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Gli autonomi possono astenersi dal lavoro presentando domanda all'Inps in un secondo momento, non appena sarà rilasciata l'apposita istanza telematica. Grazie e saluti! Grazie a tutti!